Si è tenuto ieri 13 luglio, nella nuovissima sede dello showroom Shigeru Kawai a Corsico, alla presenza di un pubblico scelto e molto attento, la presentazione del libro Vincenzo Scaramuzza, dialoghi intorno all'uomo e all'artista, curato dalla pianista e ricercatrice crotonese Angela Flocari e pubblicato nel 2021 da Fondazione Dettoris, operando nell'ambito dell'importante progetto Vincenzo Scaramuzza, genio internazionale della musica che ha permesso la realizzazione di un docufilm e momenti dedicati alla didattica, tenuti dai rinomati maestri Nora Doallo e Sebastian Colombo. Dopo aver illustrato i contenuti del libro, legati soprattutto al ricordo degli allievi, diretti dal maestro Scaramuzza e alle motivazioni profonde che la spingono a promuovere un lascito immateriale ed inestimabile valore, la curatrice ha fatto ascoltare una composizione giovanile, composta da Scaramuzza, intitolata Io amo un fiore, accompagnandola al pianoforte il noto soprano Monica Lukacs, che ne ha interpretato con grande finezza lo stile. In conclusione, si è tenuto il recital pianistico del maestro Marcelo Lian, residente in America ma formatosi in Argentina alla scuola di Scaramuzza, che ha incantato il pubblico presente, con il suo tocco cristallino, corposo e cantabile, con i brani di Scarlatti, Scaramuzza e Litz. Vincenzo Scaramuzza, nato a Crotone nel 1885, da una famiglia culturalmente vivace dal punto di vista musicale, iniziò l'attività concertistica già all'età di sei anni. Si diplomò al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, dove ottenne la cattedra di pianoforte, partì per l'Argentina dove insegnò in una succursale del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, per poi fondare una delle scuole più prestigiose al mondo, riconosciuto genio musicale per l'ampiezza del repertorio, la facilità tecnica, la varietà di tocco e l'intelligenza dell'interpretazione. L'opera di divulgazione e approfondimento di questo grande e glorioso maestro, la cui memoria in Argentina è tuttora viva e prussante, prosegue affinché i giovani esecuatori possano riscoprire saperi di inestimabile valore artistico.